Sì, abbiamo avuto una situazione dove l'inforzano, la stelle di tre stagioni, l'inforzano l'inforzano un'istitore di spagare in uno dei sdravljanci, l'inforzano l'inforzano non invito in un'istitore, l'inforzano 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 un'istitore, ce ne si fa partecipare, poi si può fare una prima sprazione, quando si può fare una prima sprazione, si può fare una prima sprazione e poi stanno solo per la prima sprazione, ma si può fare una prima sprazione, ma è solo una prima sprazione. E' questo è in grado. Ora in grado, Rm50 per il primo sprat, si è passato e si resta da gora. Quando vogliamo per il primo sprat, con il primo sprat, si non si resta da creme. Ili creme i stane, ne zavisi koliko vi žiti. Ako si malo bolje pogleda, ovaj je Rm52, odnosno relej magnetu prihidača za prvi sprat, ne vrati se do kraja. Pa, kada ga vratimo, evo ga. Sada će ići na prvi sprat. To je to. malo ćemo srediti u ovaj relej, i nakon toga bi trebalo da se radi kako treba. I evo ga, to smo sad namestili, netrenutno u prizemlju. i sad ćemo ga poslati na prvi sprat. Staje na prvi sprat. I sad drugog, ponovno da provamo na prvi. i ide u oba smera. I to je to. Znači evo ga sada već, to je mnogo drugčije izgleda, mnogo bolje radi. Ne glavi. E to je to. E to je to.